Lincoln Air propone una gamma di prodotti con la tecnologia all'avanguardia per la sanificazione di ambienti chiusi e noi col nostro know-how abbiamo fatto in modo di renderlo utilizzabile negli ambienti di spettacolo interfacciandolo con le macchine di scena perché possa essere sia fruibile, trasportabile, ma anche sincronizzabile con lo show. I sistemi Lincoln Air quindi hanno anche un software di gestione che permette di sincronizzarli e schedulare la sanificazione degli ambienti ma anche un'interfaccia DMX per poterli inserire in una timeline e farli rispondere in modo coerente con le esigenze di palco per esempio. I Lincoln continua a proporre nuovi prodotti anche per i cablaggi. Quest'anno abbiamo portato dei prodotti molto rivoluzionari che sono dei connettori LK, quindi sempre i P67 resistentissimi che integrano all'interno dei connettori MTP che sono dei connettori più piccoli di un RG45 che possono integrare all'interno 24 o 12 core in fibra sia single mode, quindi 24 single mode o 24 multi mode e questa versione ibrida le porta entrambe. Quindi uno può gestire tutti i servizi che viaggiano in entrambi le modalità a centinaia di metri di distanza.